Buongiorno, sono Antonella delle Fave, sono una docente di psicologia generale all'Università degli Studi di Milano e sono socia fondatrice della Società Italiana di Psicologia Positiva, la SIP. Come ogni anno la nostra società si propone di celebrare il 20 marzo, la giornata internazionale della felicità, con un evento aperto alla cittadinanza che si svolgerà al circolo filologico milanese e che avrà per tema la malattia come opportunità. Questo tema è apparentemente contraddittorio, ci si potrebbe chiedere che cosa c'è di positivo in un'esperienza difficile, a volte traumatica, limitativa come la malattia. In realtà una letteratura scientifica sempre più ampia, ma anche il contributo di tante persone che si sono anche cimentate a scrivere libri sulla propria esperienza di malattia, dimostrano come una condizione limitativa e problematica come una malattia possa portare con sé anche delle opportunità di crescita, di sviluppo, di individuazione di nuovi obiettivi, di nuovi interessi, di revisione dei significati e delle priorità della propria vita, di revisione, approfondimento, miglioramento delle relazioni interpersonali. Tutte queste cose saranno discusse con il pubblico sia, come dicevo, attraverso evidenze che ci provengono dalla ricerca, ma anche attraverso testimonianze che i lettori del Corriere della Sera hanno fornito a partire dal maggio 2018 ad un blog aperto in collaborazione con Ruggero Corcella, redattore del Corriere Salute, che hanno raccontato con le proprie parole quanto la malattia può essere un'opportunità. Il pubblico quindi avrà a disposizione le testimonianze di queste persone e spero si aprirà un interessante dibattito e si offrirà in questo modo spunto a riflessioni che interessano tutti noi.